91 ricerche di persone scomparse in un anno. Sono le volte in cui nel corso del 2022 è stato attivato il piano coordinato dalla Prefettura. In 61 casi le persone sono state ritrovate con una percentuale pari al 67,3%, superiore alla media nazionale che nel primo semestre si attestava al 52,34%. Attualmente sono ancora attivi 30 piani di ricerca e nella maggior parte dei casi si è di fronte ad allontanamenti volontari dei minori inseriti in comunità di accoglienza. Fra le segnalazioni di scomparsa 52 hanno riguardato maggiorenni e 39 minorenni. Con riguardo al genere si tratta in prevalenza di uomini mentre le donne segnalate sono state 33. Per l'esito delle ricerche è spesso fondamentale la tempestività della segnalazione. Proprio per questo la Prefettura di Lucca aderisce alla campagna di comunicazione del commissario straordinario del governo per le persone scomparse che invita a non perdere tempo e a rivolgersi subito al numero unico di accoglienza o al posto di polizia più vicino. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.